Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere E da YouToby che prima o poi si dovrà trovare un'introduzione bella come la tua Esatto, ma la mia è rubatissima Da Spiderman No, l'ho detto da FIFA Ah giusto, giusto, giusto E' una fusione delle due cose Comunque, inauguriamo oggi la prima puntata della stagione di Payday di Heist Dobbiamo troppo imparare a raffinare le banche Perché metti che ci sarà una crisi anche peggiore di quella di adesso C'è utile sapere C'è già su YouTube ultimamente Eh, non è proprio il massimo YouTube in questi giorni Loro si stanno prendendo tutte le cose fighe Tu hai la sacca di munizioni, io non ce l'ho Ma perché ho fatto un po' di partita da solo Eh, hai ragione anch'io, però non sono arrivato a Reputazione 5 Sono cattivo, sono cattivo Abbiamo un ospite molto gradito Nel senso che ce l'avete chiesto, avete sentito la sua mancanza dalla prima stagione di Let's 4 Dead volume 1 Abbiamo Raidrew È un suo amico anche È un suo amico Perché sono di reputazione 1,130, 1,160 Quindi io mi metterei in un angolo e farei far la rapina a loro Esatto Via a mangiare i bisogni Guarda come si muovono, ah no, sei tu questo Guarda come si muovono con fare di chi ne sa Cosa facciamo? Stompiamogli la family Va bene Giustamente Va bene, allora Perché stompargli la face pareva brutto Io cosa... Io vado a perdere il direttore della banca, va? Io sto vicino a loro perché non so bene Ah il direttore è sopra, vieni con noi Ah ok, scusa No dobbiamo troppo imparare a giocare per bene perché Trovato L'hanno trovato Ah un attimo, no arrivo, arrivo Mi raccomando le telecamere Quando hai fatto le partite da sopra hai sparato alle sparate Sì 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 Anche io Un sacco Ho imparato proprio stato meglio che mai Ma Questo mi sta guardando malissimo 3 2 1 Eh un attimo, un attimo, arrivo, arrivo Sì Dove ci va? Vediamo, guarda l'usteria Io vado qua Con Raidrew Vedi Raidrew quant'è nel sa Mi raccomando le telecamere, eccola Maledetto Uh Endshot, bitch Vediamo, vediamo Adesso qua cosa stiamo facendo Siamo in ufficia Ah stiamo prendendo le foto porno dal direttore Sicuramente L'abbiamo ucciso però non importa Ah l'abbiamo ucciso Eh gli ho sparato un colpo in testa Ma no Ma normalmente sono io quello che prima spara e poi chiedo Me ne sono completamente dimenticate Perché prima stavo giocando ad APB e sparavo alla gente Mi sono un attimo dimenticato Ah fuori una telecamera L'altra è già stata fatta fuori Oh guarda che l'ho colpito Aiuto, aiuto Madonna mia Scappa, scappa, scappa la police Ah la telecamera era già sparata Ah però quella no Quella no Conviene scendere un attimo Perché mi sa che qua Sì 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 Molta paura Come si parla con gli altri? Non lo so ma Adesso vedremo C'è un tasto per parlare Ok Allò Parahondo Aspetta che scrivo Come si parla? Ok guys Non mi piace già Già non mi piace Io devo andare a uccidere qualcuno Se no mi tremmo le mani Se io ti leggo perché mi fai un po' paura Chi è che mi sta sprando? Oh 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 Fronzi Vai 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 Scappa scappa la police Cazzuola No dovevo scappare Devo scappare Devo scappare No Ah brutto stronzo Crepaci Crepaci Qualcuno deve andare a fare lo schifo Aspetta che qua siamo un attimo Brutto maledetto Proteggetemi Aspetta si è bloccato tutto qua No Hai pochissima vita Occhio eh Appena si sblocca scappa Ma no si ricarica La vita? Eh no Si ricarica tipo l'armatura La vita invece rimane a dove finisce Stronzi Eh purtroppo sì Ho fatto la missione Yeah Via 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 Oh 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 Aiuto Madonna quanti sono Io faccio il cecchino dall'alto Ed è qua Guarda che li privello tutti Guarda Maroni la stracce Gli ho fatti fuori io Ah sì? Eh bisogna tutti e due Perché io sparavo Da sopra Pioggia Ah io anch'io da sopra Eh vedi Non nasconditi Nasconditi direttamente Guarda che sei quasi morto Sei quasi morto Adesso mi sparo in faccia Che tristezza Non morire che questi Guarda 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 Adesso mi cacciano Che questi sono forti ci cacciano eh Come lo dico Uff 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 Tira fuori le munizioni Tira fuori le munizioni Ma che stai per morire guarda Non c'ho le granate Non ancora Probabilmente saranno a livelli più alti Eh infatti sono caduto Non lì Guarda dove cacchio sei caduto Cazzo No non riesco a tirarti su Non riesco Ma come non riesci? E non mi sparano Perché sei un imbecile E' andato sulla balconata Vabbè ma se mi Se mi ammazzavano al coperto Eh sì perché No non mi sparano Allora Dai Basta coprirti Spara dall'angolo Così guarda Ma io sto facendo Ma non è vero Tu vai nel balcone Guarda Faccio anche la registrazione Tabuolo Poi quando prendo bene la mira Ci ho dovuto ricaricare Sempre così Eccolo lì Ma sono troppissimi Ah poi voglio dire Abbiamo rapinato una banca Noi abbiamo fatto Chissà cosa A quanto pare Fa male in America Rapinare la banca E' la banca E' la banca dei mafiosi Lo dico io Il monte dei paschi Dei mafiosi Esatto Monte dei paschi Di Corleone Maronne Sono tutti qui Sono qui Ho finito le munizioni Di tutto Adesso hai la sacca tu E quindi C'è il tasto per Da premere Non mi ricordo quale sia Uno Due Non mi ricordo Uno No Io tanto guardo Le pulsanti Vai vai veloce Comandi 10 secondi Raguffiamoci al trapano Veloce veloce No ma fa il culo Faccio dopo allora Però è brutto Che non si possa parlare Secondo me si può parlare Vengo a darti una mano Qual era Qual era il tasto per le munizioni Non avevo più paio di idee Non l'ho fatto in tempo Ma l'hai tirata fuori Ah c'hai la sacca per te No l'hai tirata su Sopra Ma non te ne sei accorto No Ma per l'amor Vado a prenderla Vado a prenderla Per l'amor Vado a prenderla Torno subito Vado a prenderla Avevo ucciso il bulldozer Prendo di tutto Ecco via Ecco via Ecco via Ho preso tutto L'hanno lasciata qua I nostri Ah no Tieni per un mutuo Per curarti No non mi serve Ma no ma c'è la Char Bronson Che Char Bronson Char Bronson Come si chiama Il biggine di giudizio della notte Però se magari lo uccidi Prima che mi arrivi in faccia Char Bronson Come cazzo si chiama Mi sono impappinato Ho molta paura Mi metto qui Qua secondo me Non mi fanno mai fuori Chi è che deve fare la missione Io? Ah no La stiamo facendo Tizio viene Arrivo arrivo Eccomi Mi devo chinare Mi chino Tira fuori la sacca L'ho già tirato fuori Eh ma il problema È rimasta lì La vedi È lì attraverso Là Dove ho sparato Dove? Lì Lì Guarda dove sto mirando Ah là? E cosa devo fare? Eh no L'hai tirata fuori senza volerlo È rimasta sopra Eh ma tanto Ce l'avevo già preso io la roba Eh eh Non ce n'era Cioè Non c'è soltanto il giro Cioè Aspetta No non è che hai la sacca E poi basta una volta e va via No no Rimane lì Ah no Eh ma stai Arrivitelo Appena abbiamo i soldi Brutal run Si rusha quindi Intendono Sì 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 Va bene Ma non so come si scriva Ah sopra Ecco dove Come special unit Oh marone Ah guarda adesso Mi sta prendendo male Mi sta prendendo male Non tremare che ci devi coprire tutti Ah mi devo coprire Ma no Ti avete scelto il migliore Era per dire No vabbè no Meglio di no Anzi a te lasciamo come esca indietro Oddio mi sei chiuso la finestra Aspetta Noo Questa è la rapina migliore del secolo Questa è la rapina migliore del secolo Come mi alzo già Ah qui non puoi alzare Ah qua si però Vi è qua Stronzo Adesso ti aspetta l'altro ascensore Stronzo Sto facendo un destra e sinistra con i fiocchi Oh madonna che arma c'ha questo qua Piero che arma hai? Piero che arma? Ma un coso che fa Bo 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 Schema mitra Un bollito Però è diverso dal mio Il mio fa tra 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 Il suo fa bo 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 Eh oh questione di dimensioni Esatto Piazza la seconda Piazza la seconda Piazza la seconda Piazza la seconda Chi ce l'ha la seconda Eh ce l'hai tu se l'ha detto a te Perché ce l'hai tu Io? Andiamo ti accompagno Vieni andiamo insieme Ma io non ho nessuna tannica Vieni vieni andiamo insieme Se no siamo qua una settimana E i babilonia ci chingano Prego Mi sa che devi tipo cliccare lì Dove c'è la tannica Buttala Ah ce l'avevi tu Via 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 che prendi fuoco Dirmelo che cazzo lo sapea Mi danno la termite Senza neanche dirmelo Eh ti sei preso pure il merito Voglio lo scrivo Gliel'ho detto io Guarda aspetta aspetta che ci stanno solo crivellando di tutto Ah sono caduto No Dove sei? Guarda qua Ti stanno veramente crivellando tantissimo Io continuo a prendere munizioni a caso Ma che roba Ma chi spara? Chi spara? A quelli lì Guarda che sono ancora tutti lì Sardi Curati Curati frà Sì E qui la borsa La borsa La borsa Ah ecco ecco Porca miseria Daie 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 Maledetti Stronza in faccia Te li ho dati Ma io direi di Che la serie di Di payday Oddio Dica Ho visto anche il sangue uscire La serie di payday sarà solo sulle mappe Poi basta Non verrà più delle mappe singole Basta Cioè non rifaremo più volte la stessa mappa Insomma Oh e beh Ti mancherebbe Sai dove papà? Ieri c'è L'altra volta c'era mia zia Nella chiamata Stavolta c'è mia madre Un saluto alla mamma di Francesco Questa volta direttamente Non lo so Dobbiamo fare una cena volendo Esatto Tutti è Aspetta Guarda come gli ho fatto volare il casco Bravo Ma che bravo Oddio Stanno ritirandosi Quando finisce sta termite qui? Hanno preso Non ho 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 preso Quelle economiche Da Lidl Esatto Livello di reputazione 6 Anch'io Spettacolo Andiamo andiamo Svotiamo il cavo Vai tutti dentro Tutti dentro Noi ci coprono Noi prendiamo i soldi Arraffacchiamo la loro parte Su Arraffacchiamo la loro parte Andiamo via 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 Questo è mio Questo è mio Ma stai cliccando Ah sì sì Hai ragione Era l'altra Questo è mio Questa è mio Guarda quanti soldi Vai 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 Scappa scappa la polisse No prendite Mettitene qualcuno Dentro la maschera Dentro il taschino E le mutande anche Esatto Non si sa mai Imbottiamo un po' Lo sbarabaus Mamma mia Se ci chiedono qualcosa Di che è tutto naturale Ah sì sì Tutta roba buona Signò Ok aspetta C'è anche questi Eh questi non li pigli No apriamo le cassette Di sicurezza Tutti Ti che mal No È morto scivolando per terra No questi sono Sono tutti gli appollaiati Per noi è la fine Io te lo dico Si corre Via si corre Si corre Si corre Si carra Si carra Si carra Carrete Sono salvo Sei salvo Sei salvo Hanno buttato Un fumogeno In bocca Crepaci Senza mirare Ti sto sparando No dove sto andando Crivellatissimo Settiamo il c4 Il c4 Dai ci quattriamo Ci quattriamo Abbiamo ci quattrato tutto Ecco la tua sacca di munizioni Che c'è utile giusto adesso Vedi vedi era tutto calcolato Eeeh vabbè E ne diciamo così È esploso tutto È esploso Sì Aiuto Aiuto Sei rimasto indietro Dove si va dove si va C'è il fumo non vedo niente Aiuto Sei rimasto indietro Guarda di fare Tanto per morire Non so ecco Non trovo il buco Non trovo il buco dell'uscita E se è un problema Non si trova il buco Eeeh ho capito C'era il fumo Dai andiamo 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 Di qua Sì No non ho le fascette per legargli le mani Io sì ma non c'ho voglia di sprechare Gliel'hai rubata la sua parte La loro parte Così le lasciamo andare con la macchina Diciamo andate va avanti voi E noi ce la sviniamo con i soldi Sotto arrivederci è stato un piacere Grazie Ecco ecco è arrivato il camioncino Vai vai tutti dentro Sparagli in testa adesso Sparagli in testa adesso Vogliamo i soldi noi Ah stavo sparando in testa a te scusa No Ma non sono morti Eeeh E la prima rapina è andata Ce l'abbiamo fatta Incredibile La musica è quella di Let For Let E quella di Track and Fill E anche quella di E quindi la prima rapina è andata a buon fine Più o meno Grazie a loro che avevano le super armi Noi più o meno Gli siamo stati dietro insomma Però sono superato di livello Adesso avrò anch'io la La borsa con le munizioni Io ho le mine anti uomo No 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 Le mine anti uomo? Cioè è tipo Non so cos'è Una roba figa comunque E va bene così Allora questa è la fine del primo episodio Di Payday The Ice Se volete giocare Noi probabilmente giocheremo sempre il lunedì o il martedì sera Esatto Quindi ci tornerete in quei giorni lì Ringraziamo anche Raidru e Carletto Non mi ricordo come l'avamo chiamato Piero Pelù Piero Pelù Grazie mille Grazie ragazzi Ci siete stati d'aiuto Entusiasmo E va bene Deve rovinare il gameplay così Allora Cazzo è cantando Ciao a Gatti 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 Grazie a tutti.